A sorpresa oggi è arrivato in tribunale Gianluca Cirillo, imputato di aver ucciso travolgendolo con l'auto Aldo Di Virgilio nell'aprile del 2022 ad Alessandria. Cirillo è arrivato su una carrozzella perché sembra abbia una rottura del femore e problemi ad una gamba. L'udienza con rito abbreviato di questa mattina davanti al GUP Aldo Tirone è iniziata intorno alle 12.15. Cirillo ha raccontato la sua versione dei fatti. Una manovra azzardata al suo accerto, quella di sorpassare in curva, ma lo schianto frontale con l'auto del Di Virgilio sarebbe da attribuirsi al fatto che un'altra auto gli avrebbe impedito di rientrare dopo il sorpasso. Secondo la procura Gianluca Cirillo si era messo in auto in stato di ebrezza alcolica e dopo aver assunto della cocaina aveva sorpassato in curva sulla strada ad una velocità molto elevata ed era andato a schiantarsi contro l'auto del Di Virgilio che stava sopraggiungendo dalla parte opposta. Il contachilometri dell'auto della vittima fermo a 60 km all'ora dopo lo schianto Aldo Di Virgilio morì sul colpo. Il pubblico ministero ha chiesto una condanna per Cirillo a 4 anni. Giuseppe Romano, uno dei due avvocati che assiste insieme a Silvio Bollolli e la famiglia Di Virgilio, ha chiesto che gli venga comminato il massimo della pena.